Sono già partiti più di 100 avvi di procedimento di revoca di assegnazione di progetti case MAP, 10 giorni per rispondere, poi scatta lo sgombero che sarà anche coatto se non ci penserà il cittadino. È la guerra ai morosi dichiarata oggi dal Comune dell'Aquila. I canoni di compartecipazione e di locazione di alloggi case MAP vanno pagati perché c'è una legge dello Stato, ribadisce il Sindaco Cialente, e non esiste che debbano pagare tutti gli aquilani. Molto rapidamente si deve pagare perché c'è una legge dello Stato che prevede che tutti coloro che sono residenti nel MAP e nel progetto case devono partecipare alle spese di manutenzione. Perché prima per 3 milioni e 700 mila euro l'anno sono stati pagati dallo Stato. A un certo punto lo Stato ha detto ragazzi, ma sono passati 5 anni, no? Ma cominciano ad andare un po' nelle nostre gambe. Adesso che succede? I cittadini non vogliono pagare. I MAP l'anno scorso sono costati 300 mila euro di manutenzione ordinaria. 1.143 MAP, 1.132 occupati, 4.470 progetti case, un condominio enorme, fatto da gente, dice il Sindaco Cialente, che per 4 anni non ha mai pagato perché gli altri aquilani sono tornati a pagare ed è giusto che tutti lo facciano. Non può ricadere sulla collettività la vicenda di questi cittadini. Se ci saranno tra queste famiglie indigenti, si rivolgeranno a chi di competenza, dice il Sindaco, cioè prefettura e regione. Consumi individuali in Italia li pagano tutti, ribadisce. Peraltro, ha spiegato l'avvocato De Nardis, il Comune, per i morosi che sono proprietari di casa, ha deciso di trattenere soldi per la ricostruzione privata. Le somme andranno recuperate e lo faremo in ogni modo. Non verranno lasciate con le buone? Allora ci sarà l'ordine del sgombro. Chi lo fa lo sgombro? Ho già parlato, il prefetto lo fa la prefettura. La dirigente De Paulis ha fornito anche i numeri, da giugno 2014 ad oggi, 1900 solleciti di pagamento fatti, centinaia di ingiunzioni per i morosi totali. Ora stanno partendo anche quelle per i morosi al 30%. Dal 2014, ha ricordato, non sono state coperte le spese di manutenzione e gli enti gestori minacciano di staccare le utenze. La massiccia operazione di recupero soldi è iniziata, gli aquilani già minacciano azioni clatanti.